Pronti per la finale di oggi? Sì, pronti. Sicuramente ci attende una partita durissima. Pergola è una squadra fortissima. Penso che oggi sia la squadra da battere in tutto il mondo. Sono contento ancora una volta di partecipare in una manifestazione così e poter giocare alla finale. Ovviamente vogliamo di più. Vogliamo vincere. Non rispettando sempre Belgrado perché secondo me è la squadra più forte del mondo oggi. Non avete avuto molto tempo per preparare questa partita? No, non abbiamo avuto tempo, ma neanche loro penso. Quindi secondo me sarà un bel spettacolo della pallavolo. Siamo qua tutti in Turchia molto contenti di poter fare la prima finale di una squadra turca in Champions League. Quindi sicuramente ci attende un bel spettacolo e ripeto sono contento di poter partecipare. Il futuro di Raffael? Il futuro non lo so niente ancora, veramente. A me piacerebbe molto tornare in Italia anche. Però sinceramente non lo so niente fino adesso, è presto ancora. preferisco pensare a finire bene cosa fanno fuori, a poter fare bene i play-off qua anche. Dopo vediamo cosa succederà. Salute La scena è vera, la trossa è vera, all'ultimo. Grazie a tutti